Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Le nostre nazioni intrattengono anche un'eccellente cooperazione economica bilaterale, siamo entrambi il secondo partner economico e commerciale dell'altro, poi sempre in materia europea la riforma del patto di stabilità e crescita. Talvolta vi possono essere le controversie ma sempre in un contesto rispettoso. Non leggerei la politica estera come se fosse una relazione tra ragazzini che litigano e fanno pace. I legami tra le nostre società fanno vivere ogni giorno questa relazione unica che vi è tra l'Italia e la Francia. Quindi confido che a partire dal dialogo di oggi lo faremo ancora meglio e ancora di più in futuro. Grazie.